Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video, io sono Francesco Lopiccolo e oggi metteremo a confronto le mini fette di unilo bianco con gli Orochoc. Allora ragazzi, io darò dei voti a tre aspetti, ossia l'aspetto del biscotto, la friabilità e il contrasto tra il biscotto e il cioccolato. Allora ragazzi, io inizierei dagli Orochoc. Prendiamoli e li apriamo. Ecco, li ho aperti. Allora, questi qui sono gli Orochoc, che sono dei biscotti con sopra il cioccolato. Allora, l'aspetto carino. Gli do un 8. Ora proviamo la friabilità del biscotto. Veramente buono. Il biscotto è molto friabile, quindi gli do un 8. Mentre il contrasto tra il biscotto e il cioccolato è pure abbastanza buono. Gli do un 7. Ben ragazzi, adesso è ora di provare le mini fette, unilo bianco. Ci vediamo con delle aperte. Ecco qui ragazzi, le aperte. E vediamo. Sono queste. Allora, l'aspetto secondo me vincono i Orochoc, però sembra molto buona. Ora andiamo all'assaggio. Molto buono. Allora, il biscotto è poco friabile, però il contrasto tra il cioccolato e il biscotto è ottimo. Ora ragazzi, vedremo chi vincerà la nostra sfida. Io vi invito qua sotto nei commenti a scrivere secondo voi quale vincerà. E mi raccomando, provateli e ditemi quali vi piacciono di più a voi. Comunque, questa sfida l'hanno vinta gli Orochoc. Perché gli Orochoc, oltre all'estetica molto meglio della fetta, del cioccolato unilo bianco, pure la friabilità del biscotto è molto friabile. Questo è appunto un avvantaggio dell'Orochoc. Ma ragazzi, il video di oggi finisce qui. Io vi invito a mettere in mi piace il video e ad iscrivervi al canale. Detto questo, ciao ciao, ci vediamo in un prossimo video.